Certo, io sono napoletano, non posso tenere l'accento milanese. Napoletano. Questo piatto è la specialità della casa. Sembra appetitoso. Vado a Fono e tu. Il ministro, il ministro è noi. Stai bellissima con questa abitinatura. Beh, anche lei. Io ho una vita che porto così. Esci con una. Ti si può nascondere niente. Guarda che ti ho partorito io per ragazzo.